Per lavorare attraverso questa gestione politica basta anche pensare, io sto lavorando attraverso la sfera politica, quindi percepire questa sfera e così semplicemente entrate in questo pilotaggio attraverso la sfera politica. Ad esempio l'obiettivo di pilotaggio per il quale abbiamo lavorato prima l'unione di tutti i paesi del mondo per l'assoluzione pacifica, quindi per firmare il patto sull'assoluzione pacifica di tutte le situazioni di conflitto. E percepiamo questo obiettivo di pilotaggio come un obiettivo di pilotaggio già realizzato nella sfera, quindi che si trova nel punto dal quale le informazioni del mondo esterno entrano nella nostra percezione. Quindi nel mondo ci possono essere varie informazioni negativi. Però noi non permettiamo queste informazioni di influenzarci, di entrare nella nostra percezione, di creare una pressione su di noi. Non semplicemente le facciamo passare attraverso la sfera della gestione politica e così si trasformano. Il creatore ha lo stesso obiettivo, unire tutti i paesi del mondo, fermare tutte le guerre e lui vede anche il nostro pilotaggio. Se noi lavoriamo attraverso la sfera politica, allora abbiamo un tale pensiero, abbiamo una tale percezione che trasforma subito le informazioni che arrivano dall'esterno in una struttura dello sviluppo eterno. E quindi qualsiasi problema che uno ha nel mondo, anche altre persone che arrivano con i loro problemi, oppure qualsiasi, per esempio, questione che avete, anche una questione che riguarda la salute, gli affari personali, qualsiasi altra cosa, allora voi potete far passare questi segnali. Quindi questi segnali li fate passare attraverso la sfera della gestione politica, del pilotaggio politico. Così li trasformate nella struttura dello sviluppo eterno e iniziate a vedere come si emana la materia della vita eterna. Così anche voi ricevete questa materia della vita eterna. Così abbiamo sempre una risposta immediata per qualsiasi problema, per qualsiasi questione. Quando noi lavoriamo attraverso la sfera politica, allora noi per qualsiasi problema abbiamo subito una soluzione istantanea. E noi abbiamo già visto da dove proviene questo pilotaggio, arriva dal livello di fintamento lontano. E arriva subito la soluzione, il pilotaggio per il nostro problema, per esempio, soprattutto quando lavoriamo attraverso la sfera della gestione politica. Così noi vediamo come avviene la politicizzazione della società. Così vediamo come il nostro pensiero trasmette le informazioni, le conoscenze nel centro di pilotaggio. E il centro di pilotaggio sarebbe il livello infinitamente lontano. E quindi cosa utilizziamo come trasmettitore, per esempio, dal nostro impulso al centro di pilotaggio? Utilizziamo come trasmettitore o l'immagine delle piccole lenti nella nostra percezione, oppure la sfera della gestione politica, sempre nella nostra percezione. Quindi perché trasmettono il nostro segnale e noi così riceviamo subito la soluzione, riceviamo la luce, per esempio, del problema già risolto. У нас с вами такая struktura мышления, которая мгновенно выдает решение по любому вопросу. Così noi sviluppiamo una tala struttura del pensiero che produce subito la soluzione per qualsiasi problema. Quando una persona partecipa all'attività politica, noi in realtà partecipiamo all'attività politica, per esempio, perché noi garantiamo la vita eterna. Quindi quando una persona partecipa attivamente, questa persona sviluppa e anche garantisce la vita eterna a tutti.